Gela è sede dal coordinamento regionale delle associazioni anti-racket ed anti-usura aderenti alla FAI. E' quanto deciso dai vertici nazionali della federazione. Il presidente del coordinamento è Renzo Caponetti, che da anni presiede l'anti-racket che è Tano Giordano. La sua nomina è stata voluta dai membri soci fondatori e dal presidente onorario della FAI, Tano Grasso, vicepresidente è Giuseppe Foti, segretario Nazareno Prinzivalli. Eliana Giudice è stata nominata componente del consiglio direttivo, mentre Paolo Caligiore è il presidente onorario. E' un prestigio per tutti i cittadini. Significa che l'associazione anti-racket, nata nel 2005, ha lavorato bene e ha dato i suoi frutti. E l'Assemblea nazionale che abbiamo fatto sabato scorso ha votato all'Unione Milità la mia presidenza a coordinatore regionale appunto per i numeri che ci sono stati, per gli arresti e le operazioni eccellenti e la collaborazione, soprattutto hanno evidenziato, Tano Grasso ha evidenziato sabato scorso, la collaborazione fortissima che c'è con le Forze dell'Ordine. Adesso lei si occuperà di nuove province? Eh, diciamo, sono contento e no, perché il lavoro mi aumenterà notevolmente. Dovrò affrontare province tipo Trapani, nell'Agrigendino, quindi Pavara, Pamolente Chiaro, zona del Catanese, zona dell'Ennese, insomma del Ragusano. Sì, è che ho curato io già negli anni passati le nostre zone vicine tipo Ragusa, Vittoria, Niscemi, Troina, ma ora diventa un pochettino più complicata e diciamo sono anche io un pochettino perplesso. E lo sommegno quotidiano nel ricordo indelebile di Catano Giordano? E quella è la partenza, quello è il nostro orgoglio, avere Catano Giordano, che noi non è che lo ricordiamo solo il 10 novembre, noi lo ricordiamo tutti i giorni. Non c'è una conferenza, non c'è un incontro dove noi non parliamo sempre di Catano Giordano, sia io che Tano Grasso. A seguito degli ultimi attentati incendiari a Gela, da più parti si invoca l'arrivo dell'esercito. Io sono contrario, per l'esercito sono contrario. L'ho detto anche diversi anni fa, parlo io del 2007-2008, sono contrario all'esercito. Per quel motivo? Basterebbero 10 poliziotti in più, 10 carabinieri in più, l'aumento dell'organico se necessario nella polizia municipale e soprattutto, qualora ci fosse una mancanza di organico nella procura, è bene che venissero sostituti i procuratori da tutta l'Italia a riempire le sedi vacanti qui in procura. Dunque è un noto assoluto all'esercito? Assolutamente no.